L'avvento di Covid è un evento senza precedenti che sta cambiando e cambierà radicalmente quelle che sono le nostre abitudini economiche e sociali. Di fatto Covid sta evidenziando come la relazione tra società e imprese sia economia sia di fatto debole e non ancora totalmente esplorata. Stiamo assistendo ad aziende che devono rispondere a desigenze sempre nuove, a continuo cambiamento e di fatto diventa molto difficile ad oggi fare previsioni. Tuttavia la situazione attuale già ci permette di portare a casa qualche lezione, di imparare qualche cosa da questa situazione nuova. Di fatto ritengo che sia possibile sottolineare almeno 5 punti. Con Covid stiamo scoprendo che il lavoro non è un doubtless. Le relazioni che staviamo sul mondo del lavoro con colleghi, con fornitori, con clienti vanno ben oltre il suo scambio di beni o servizi a titolo oneroso. Riceviamo mail da colleghi interessati della nostra salute, riceviamo chiamati da fornitori che vogliono sapere come stiamo noi e le nostre famiglie. Questo dimostra come il lavoro, le relazioni umane, vanno ben oltre il suo aspetto economico. È proprio dalla qualità di queste relazioni, spesso instaurate nel lungo periodo e in lunghe collaborazioni, che troveremo la forza e un patrimonio inestimabile per ripartire una volta questa emergenza potrà avvicinarsi verso una fase di chiusura. La seconda lezione che stiamo imparando è che le aziende non hanno l'unica responsabilità del profitto. Lo stiamo imparando in modi differenti. Abbiamo aziende che hanno deciso volontariamente di chiudere per tutelare i più fragili, anche quando la chiusura non è obbligatoria. Le aziende che non hanno fatto questa scelta si sono trovate a dover chiudere, in alcuni casi, proprio per tutelare sempre queste figure più fragili, quindi per tutelare quella che la società è un bene della salute. Ma abbiamo anche aziende dove la responsabilità, oltre il profitto, significa continuare a rimanere aperte. Pensiamo al settore alimentare e a tutti i servizi essenziali. Queste aziende stanno con fatica, quotidianamente lavorando, per produrre bene di nostra necessità e lo stanno facendo anche riconoscendo economicamente, quindi sacrificando il profitto, un valore economico anche ai lavoratori che si sono resti disponibili a prestare servizio durante questo periodo non semplice e quindi mettendo in parte anche il rischio della propria salute. Un terzo elemento è la necessità di ripensare ai modelli organizzativi attuali. Covid ha messo in crisi le aziende dove si ha al vertice un leader che centralizza tutto su di sé. Questa persona è andata in difficoltà quando le scelte da prenderono sempre più, è sempre più numerose, è sempre più frequente. È emerso la necessità di garantire forme di coordinamento, collegamento tra le varie funzioni aziendali. Le organizzazioni di grandi dimensioni prive di questi strumenti si sono trovate in difficoltà nell'implementare velocemente soluzioni che permettessero di cambiare velocemente e cambiare in modo omogeneo nelle diverse parti dell'azienda. Forse il telelavoro è qualcosa di possibile, in forme diverse, ma stiamo imparando come sia possibile effettuare attività da casa anche che precedentemente erano possiate come possibili solo in ufficio. Un'altra cosa che abbiamo imparato è come i processi e le strutture organizzative non siano abbastanza. Ciò che fa la differenza è la cultura e i valori aziendali. Le organizzazioni improntate all'imprenditorialità, dove le persone sono affezionate, sono attente e fedele al proprio lavoro, in questo momento stanno scoprendo un orientamento alla proattività del proprio personale. Quindi cose come i valori, la cultura, che apparentemente siamo tanto lontano dall'operatività, oggi stanno dimostrando più che mai la capacità di impattare sull'attività quotidiana. È quindi necessario per le aziende riconsiderare questi elementi e investire sempre più nella creazione di cultura e valori in tutto il personale coinvolto. Da ultimo stiamo riscoprendo l'importanza di una valutazione strategica della catena di fornitura. Stiamo al nostro malgrado scoprendo che strumenti di protezione individuale come le mascherine hanno trovato la loro produzione spostata in paesi terzi solo sulla base di criteri economici. E' quindi necessario ripensare la propria catena di fornitura, valutando non solo la dimensione economica, ma anche i tempi di fornitura, ma soprattutto cercare di proteggere la fornitura di beni o servizi critici a livello aziendale per l'azienda stessa, ma anche a livello paese per l'andamento dell'economia e per la tutela di beni essenziali, quale appunto la salute. Grazie a tutti.